Alimentazione prima della maratona. Cosa dobbiamo sapere? Alcune discipline richiedono fatica, impegno e tanta costanza. Alcuni sono ancora convinti che correre la maratona sia un impegno a bassa intensità. Beh, oddio, anche in molte facoltà continuano ad insegnare una cosa del genere, ma se osservassimo gli atleti di elite ci accorgeremmo come le intensità tenute sarebbero tutt'altro che modeste. Beh, chiudere la maratona in due ore non è di sicuro impresa facile, ma oggi non parliamo dei super campioni, ma degli amatori, di coloro che vogliono provare a completare la maratona o coloro che vogliono provarci. Daremo le linee guida introduttive, quelle che possono servire a dare alcuni spunti di riflessione sull'alimentazione. Come comportarci se vogliamo preparare la maratona? Quale alimentazione seguire la settimana prima della gara? Prima di rispondere facciamo una doverosa premessa. Ogni atleta è a sé. In altre parole le linee guida servono per orientarci, ma non possono essere prese come universali o adatte per tutti. Ognuno di noi è come un'impronta digitale. Alcuni troveranno utili queste linee guida e altri magari adottano altri sistemi, ma non per questo meno efficaci. La chiave è personalizzare la dieta, perciò avvaletevi sempre di un biologo nutrizionista, possibilmente con preparazione sportiva, per avere una dieta cucita appositamente su di voi. Si può decidere la settimana prima della gara di eseguire uno scarico di carboidrati per circa 4 giorni, al seguito dei quali ci sarà una fase di ricarica di 3 giorni per aumentare la ritenzione di glicogeno muscolare e quindi avere più benzina durante la gara. Nelle fasi di ricarica possiamo assumere carboidrati fino a 8-10 grammi per chilo di peso corporeo. Avvaletevi piuttosto di un'applicazione gratuita per eseguire dei calcoli e prepararvi adeguatamente. Nelle fasi di scarico possiamo pensare di stare tra 2 e 3 grammi di carboidrati per chilo di peso al giorno, ma ripetiamo come alcuni si trovino benissimo con scarichi molto più marcati, toccando diete con un apporto inferiore ai 120 grammi totali giornalieri di carboidrati. Avere più glicogeno muscolare durante la maratona non significa solamente avere più benzina, ma anche più idratazione. In alcuni casi delle ricariche eseguite male o con un'assunzione eccessiva di carboidrati possono aumentare il peso corporeo e ridurre le prestazioni in gara invece di aumentarle. Perciò eseguite delle prove diverse settimane prima della maratona per simulare cosa farete in gara. Ma il giorno della maratona quale dieta seguire? Parliamo ovviamente della colazione. Le linee guida generali sono di assumere un pasto glucidico 3 ore prima della partenza, raggiungendo i 2 grammi di carboidrati per chilo di peso corporeo, ma attenzione alle fibre. Sarebbe meglio, a partire dalle 12 ore antecedenti alla maratona, non assumere alimenti ricchi di fibre per evitare disconforto intestinale durante la gara. Alcuni ricorrono a quella che si chiama idratazione preventiva. In altre parole, i 15-20 minuti prima della competizione assumono circa 200 ml di acqua. Assumere un dosaggio di acqua più elevato aumenta la probabilità di incorrere nella necessità di evacuare poco prima della partenza ed è necessario prestare molta attenzione ad eseguirla correttamente. Inoltre alcuni assumono diversi integratori per la gara, dai multivitaminici alle maltodestrine, alla caffeina e anche la creatina. Cosa assumere perciò prima della gara dal punto di vista supplementativo? In realtà sarebbe meglio nulla per tenersi gli integratori durante la competizione. Inoltre immaginiamoci che chi ha eseguito una ricarica corretta nell'ottica di una dieta bilanciata potrà ridurre al minimo l'utilizzo di supplementi. Durante la gara ovviamente si possono utilizzare stick con maltodestrine e amminoacidi ma questo sarà oggetto di altri video. Per l'appunto non perdetevi i prossimi video e iscrivetevi al nostro canale. Ah e spero che conosciate il nostro blog dove potete formarvi gratuitamente con tante news settimanali e per i più desiderosi abbiamo anche un calendario ricco di corsi di formazione, adesso anche online. Cosa chiedere di più? Ricordatevi durante la sottoscrizione di premere sull'apposita campanella per rimanere aggiornati e ricevere le nostre notifiche. Noi ci rivediamo al prossimo video e buon allenamento!